Sarà riaperto entro le prossime festività di Natale, comunque entro l'inizio della stagione invernale, lo svincolo di torni in parte sulle quattro direzioni di percorrabilità. L'ho assicurato Iginio Lai di Strada dei Parchi, intervenuto ad una riunione convocata dal presidente della provincia dell'Aquila, Angelo Caruso, nella sede di Monte Cagno all'Aquila, per definire i termini di riapertura del raccordo, che è molto importante per la viabilità, anche verso la stazione sciistica di Campo Felice. Oltre al rappresentante della società concessionaria, all'incontro erano presenti l'impresa esecutrice dei lavori, il direttore dei lavori, il responsabile unico del procedimento, i sindaci di torni in parte, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, Vindoli Luccoli e gli operatori economici. Nel corso della riunione sono state affrontate tutte le problematiche relative al tratto di strada, compresa una possibile riapertura della Galleria di San Rocco, che per il momento resterà transitabile a una sola corsia, ma che prevede l'apertura di un nuovo accesso telepass in uscita per l'altopiano delle Rocche, al fine di evitare code nei periodi di maggiore afflusso verso gli impianti di sci. In particolare i lavori proseguiranno durante tutto il prossimo inverno e quello successivo, per garantire alla nuova struttura di resistere a terremoti superiori a quelli che si sono verificati all'Aquila nel 2009, un'opera necessaria per garantire pure i soccorsi e la piena percorribilità dell'arteria in caso di calamità. Soddisfatti i sindaci con la riapertura dello svincolo verranno salvaguardati gli interessi degli operatori economici dell'altopiano delle Rocche, dell'Aquilano e quanti transiteranno per accedere all'autostrada, costretti in questi mesi a tantissimi disagi. Il presidente della provincia Angelo Caruso ha fissato ora però un nuovo incontro per avere informazioni più dettagliate sull'andamento dei lavori entro la fine del mese. La provincia, detto Caruso, pur non avendo competenze specifiche nel trattato stradale, ha raccolto le preoccupazioni di sindaci, residenti e operatori turistici per un possibile ritardo nella riapertura dello svincolo che avrebbe determinato gravissimi danni a un territorio che al contrario deve essere sostenuto e rilanciato.